Francesca che è figlia di un pilota quindi è molto abituata ad avere la sportività nel DNA questo è uno dei grandi protagonisti della stagione che si è fermato, ha approfittato del regime di CFT Car Simone Pellegrinelli vincitore di gara 2 del Mugello c'è un estintore che è andato a spengere un principio d'incendio quindi aveva già avuto problemi, vedete che partono subito adesso i ragazzi con l'estintore c'era un principio d'incendio al motore, probabilmente ieri ha avuto un incidente Pellegrinelli quindi la vettura ha sofferto per quello, sta accadendo un po' di tutto tranne che una gara esatto, esatto, comunque io adesso se fossi in Alessio Rovera starei tranquillo